PEGI 18 Tutti voi siete il peggio del peggio del peggio. Eppure, fate bene quello che fate. Anche se quello che fate non è bene. Benvenuti nella Task Force 6. Fatevi guardare bene. Un poppato. Una pazza. Una offesa al buon gusto. E un barbone. Siete perfetti. Ma vedete anche voi quello che vedo io? Questo è un viaggio di solo andare. Ehi, Waller! Ma dove cazzo ci hai mandato? È una merdosa zona di guerra qua giù. Lasciù, gente! Complimenti, Task Force 6. Siete i primi ad essere arrivati vivi a Metropolis. Era proprio quello che volevo fare io! Task Force 6. La vostra nuova missione è uccidere la Justice League. È una merda! È una merda! Alzate la mano se affrontare la Justice League è una pessima idea. Beh, io sono sbroso! Cosa pensavate sarebbe successo? Strisciate fuori dalle celle, arrivate e risolvete la situazione! Che tipo di supereroi avete detto di essere? Ricordate, le vostre teste ticchettano. Non ce la farà. Non ce la farà. Waller, pinguino è in volo. Ripeto, pinguino è in volo. Allora tarpiamogli le ali. Oh mio Dio, si sta rialzando! Ok, di nuovo. È scappato! Qualcuno lo ferma! L'ho fermato? No. Direi proprio che non l'hai fermato. Waller, Waller, fallo fuori! Agh!